Il caro energia determina un aumento dei prezzi anche nel bicchiere, più 11% per l'acqua minerale, 10,5% per i succhi di frutta, 7% per le bibite gassate, quanto emerge da un'analisi della Coldiretti. Una situazione destinata a peggiorare il notturno che riguarda l'intera filiera agroalimentare che vale 575 miliardi di euro, 4 milioni di lavoratori, 740 mila aziende agricole e 70 mila industrie alimentari. Con i rincari da tuno insieme al sistema produttivo, dice il presidente Coldiretti Ettore Prandini, sono a rischio alimentare oltre 2,6 milioni di persone che in Italia sono costrette a chiedere aiuto per mangiare.